I numeri di stimate di persone che arriveranno nel territorio di Torrita nella settimana di questo grande evento pubblicale internazionale? Noi speriamo che arrivi a Torrita i numeri che sono stati imposti anche negli altri anni, l'ultima Bruxelles, quindi si spresume dalle 5 alle 6 mila presenze che rimarranno sul territorio per lo meno 3-4 giorni, anche perché il nostro territorio fortunatamente offre opportunità anche di soggiorno, non solamente per vedere le 3 giornate di blues, ma per godersi anche il territorio e il buon cibo. Infatti sono previste anche 3 mini tour che organizziamo come comunità di Torrita, come fondazione, che vedono anche uno una visita a Siena di questi gruppi stranieri che potranno venire a Siena nella mattina quando non saranno impegnati a suonare e poi potranno vedere anche le nostre belle Terme di Rapolano e perché no andare anche a Montepulciano, ovviamente nella nostra Montefollo anche.